A parte il fatto che ti vedo saltare senza piegare le gambe Ma che cacchio sta succedendo Salta un attimo Cioè vedi che tecnicamente i personaggi piegano un pochettino le gambe Invece se ti vedo saltare sei un ceppo di legno E' arrivato Michael Myers il ceppo di legno Michael Myers il ceppo è arrivato anche su Fortnite Posso mettere questa clip su YouTube? Certo